Ciao amici e Revotech a tutti! Oggi vi faccio vedere un altro mini PC molto interessante di fascia un po' più bassa rispetto a quelli precedenti non super pompato ma con un prezzo interessantissimo lo trovate su Amazon a 239,99 con un coupon in pagina di ben 50€ quindi a 189 ve lo portate a casa in più c'è anche un ulteriore coupon del 5% acquistando due articoli compatibili con un coupon sempre che trovate in pagina metteremo il link in descrizione si tratta del Nipoji, il marchio cinese GK3 Plus non è il Pro infatti andiamo a vedere dietro nella scheda è selezionato il G3 Plus colore silver da 16GB di RAM e 512GB di SSD versione EU Intel Alder Lake N95 N5095 fino a 3.4GHz come dicevamo storage 512GB con M.2 SSD e ovviamente con anche 4K compatibilità e 3 display contemporaneamente compatibili con anche il Wi-Fi Bluetooth 4.2 il processore ci spinge fino a un massimo di 3.4GHz ed è dotato di una Intel UHD graphics integrata non ha una scheda diciamo tra virgolette dedicata che di fatto non lo sarebbe perché comunque su un mini PC è difficile parlare di scheda dedicata però comunque è un PC che vi consente di lavorare di essere collegato alla TV per vedere i vostri canali preferiti o navigare su internet direttamente dalla TV oppure collegarlo a un monitor per la produttività e a 189 euro direi che è un prezzo interessantissimo adesso lo apriamo anzi prima venite sul nostro blog certe.it a leggere tutte le nostre recensioni scritte mi raccomando iscrivetevi al canale likeate a bestia sosteneteci attivate la campanella delle notifiche e condividete i nostri contenuti subito dopo la sigla per lo spacchettamento il collegamento al monitor e la nostra prova ok lo apriamo velocissimamente facendovi vedere come è fatto l'oggetto ormai si assomigliano un po' tutti intanto guardiamo che cosa c'è in confezione a livello di dotazione c'è una staffa che è una sorta di aggancio per poterlo mettere magari attaccato dietro al monitor e farlo così scomparire dalla scrivania per guadagnare spazio c'è poi anche non vedo l'italiano grave, molto grave questa cosa però comunque c'è l'inglese, lo spagnolo e mi sembra che sia molto comprensibile il tutto cavo HDMI perché vuoi a dire HDMI altrimenti è un reato penale e il suo trasformatorino in dotazione da 30 watt non c'è altro tranne che un sacchettino con delle viti aggiuntive che possono essere utili per l'attacco al monitor buttiamo via la scatola andiamo a prendere l'oggetto e andiamo a sgolosare, a sfringuillare le porte e le caratteristiche principali l'oggetto si presenta con questa placca di alluminio nella parte superiore che ha questo sound queste griglie aperte per la dissipazione del calore che diciamo girano tutte intorno anche se da queste due parti sono più pronunciate su questo lato abbiamo un'uscita VGA per un cavo compatibile con gli schermi diciamo un pochino più anacronistici e obsoleti se dovete collegarlo a un computer di qualche anno fa qui c'è la sigla del PC e vi fa vedere le caratteristiche guardate 512 giga, 16 giga di RAM che per un PC da 189 euro già di per sé è assolutamente un ottimo corredo hardware ci sono questi gommini antiscivolo che impediscono che vada a scivolare sul piano poi qui c'è una mail di supporto un codice QR per l'assistenza immagino e un led che si andrà a illuminare nel momento in cui magari il processore si attiva poi davanti tasto di plastica tutta plastica questa parte e anche la parte sotto no, la parte sotto anch'essa in alluminio per dissipare meglio il calore come la parte in alto la copertura e tasto di accensione 3 USB vedete 2 di tipo 3.0 e una di tipo 2.0 dietro c'è un'altra USB poi c'è una specie di interruttore che però non riescomo ad aprire secondo me si sblocca con questa vite servirà presumibilmente per sbloccare e aprire la parte in alto per andare a modificare o ad aggiungere componenti un ingresso LAN un ingresso per le cuffie 2 HDMI e l'ingresso per l'alimentazione e per il momento è tutto ci vediamo in ufficio tra virgolette per andarlo ad accendere provarlo come facciamo sempre con i nostri test e vedere anche un po' le prestazioni grafiche le prestazioni di scrittura e di lettura della RAM e del nostro SSD per valutare se il rapporto qualità prezzo da 189 euro con lo sconto ci restituisce un prodotto che potremmo considerare di comprare a dopo ok abbiamo installato questo mini pc in camera di mia figlia facciamo qualche test di prova per vedere come se la cava ma il pc è veramente reattivo anche l'apertura delle finestre è davvero istantaneo non ci sono problemi di reattività anzi vedete che è tutto molto fluido abbiamo 16 giga di RAM installati abbiamo un SSD da 500 giga e un processore a 2 gigahertz Intel N97 ovviamente è un processore di fascia bassa però per la navigazione la consultazione il lavoro eccetera è sicuramente consigliato anche lo scroll delle pagine guardate che non ha alcun tipo di problema possiamo provare all'aprire anche una notizia non ci sono vedete nello scrolling se la cava decisamente bene anche nell'apertura delle foto delle immagini adesso facciamo qualche test con i nostri programmini facciamo tutto dall'inizio e vediamo come si comporta partiamo con Crystal Disk Mark e vediamo le velocità in lettura e in scrittura poi passeremo a Cinebench vedete anche l'apertura da zero di internet anche se devo andare su Google e fare una ricerca è Fulminea anche se vado su impostazioni schermo se vado su personalizza vediamo gli aggiornamenti se per caso ce ne sono andiamo a vedere su funzioni avanzate se abbiamo degli aggiornamenti facoltativi o degli aggiornamenti dei driver di sistema adesso poi andiamo a vedere i parametri che ci dà Cinebench con gli altri processori diciamo che fanno statistica è un mini PC comunque completo che ha tante porte e questa griglietta di alluminio che aiuta tantissimo alla dissipazione del calore vediamo come se la cava in scrittura 1702.93 MB al secondo non è affatto male poi questi sono tutti i test che si possono poi anche andare a come dire personalizzare anche la connettività Bluetooth con un altoparlante esterno è con bassissima latenza vi ho fatto una prova con uno dei nostri speaker della Trosmart il segnale Wi-Fi è sempre molto stabile sono cose che sembrano scontate invece bisogna sottolinearle perché non è mai scontato il fatto che il segnale possa essere stabile diciamo che per lavorare è un prodotto che va sicuramente bene ovviamente metteremo il link in descrizione con il prezzo e l'eventuale coupon ecco questo è il quadro generale per quanto riguarda sta finendo i vari test perché sono 5 per ogni livello concluso questo è il risultato finale che è circa lo stesso che avevamo registrato all'inizio e dà già una idea di come si comporta la macchina andiamo a chiudere questo test e avviamo Cinebench che è un po' più lungo perciò lo avviamo e poi dopo faremo le considerazioni finali partiamo intanto con il test in multicore qui abbiamo tutti i processori più performanti e andiamo a vedere più o meno come si va a piazzare questo Intel N97 da 2 GHz lo lasciamo lavorare e ci vediamo dopo bene sta concludendo il test in multicore concluso adesso ecco 2781 punti e si va a piazzare in ultima posizione rispetto alla griglia che abbiamo qui dietro al core i7-1165G7 da 15 watt ma era da preventivarlo ovviamente questo non è certo un processore prestazionale serve soprattutto per l'ufficio per la navigazione per le cose proprio basiche perciò non ci potevamo aspettare un risultato migliore proviamo il single core adesso a vedere come se la cava e ci vediamo alla fine bene ecco qua il test in single core sta completando la cosa positiva è che sicuramente le temperature rimangono molto basse i consumi sono ridotti e tutto ciò che ne consegue rispetto a un pc che ha prestazioni decisamente di basso livello attendiamo che concluda e poi diamo un'occhiata alle temperature e all'hardware in modo un pochino più approfondito bene siamo alla fine manca l'ultima riga a sinistra vedete che ci mette decisamente tanto ok intanto qua concluso non si posiziona nemmeno come ultimo della lista ma in una posizione dietro al AMD Ryzen 3 Dripper 1950X 16 core e davanti a un Intel Core X7 4850 HQ questo è il test in single core sono test che ovviamente nell'utilizzo quotidiano lasciano un po' il tempo che trovano però ci danno un'idea del fatto che comunque non è proprio una macchina da buttare tutt'altro ripeto per l'utilizzo casalingo normale che si fa nell'80% dei casi va benissimo qua ci sono vedete i dettagli di sistema Intel UHD graphics processore N97 TDP 12W Alder Lake N le RAM vediamo i dettagli della scheda video con la memoria grafica praticamente inesistente ma ci sta qui abbiamo la scheda madre il processore i dettagli come abbiamo visto anche prima ci sono poi tantissimi parametri da poter consultare e le temperature sono sotto abbiamo raggiunto con i nostri test al massimo i 55 gradi che è una temperatura assolutamente accettabile infatti la macchina non ha avviato nemmeno la ventola di raffreddamento nemmeno durante i test questo è un plus significativo da considerare soprattutto se lo usate in ambienti caldi perché lui non scalda assolutamente direi che poi vabbè qua abbiamo tutte le varie porte rete unità disco che non c'è memoria DDR4 16GB due banchi da 8GB ciascuno non sto a smontarlo per evitare di perdere eventuali garanzie bene detto questo è un mini PC sicuramente molto economico con prestazioni basiche ma assolutamente in linea con l'utilizzo da ufficio quotidiano perciò chi deve lavorare su Word chi deve fare statistiche chi deve usare PowerPoint e altre applicazioni non pesanti può tranquillamente usufruire del computer senza problemi né rallentamenti né lag ci potete fare anche qualche giochino ovviamente sempre rimanendo su parametri basici però devo dire che per quanto riguarda la navigazione lo scrolling l'apertura delle immagini degli articoli e tutto quanto andiamo assolutamente bene è sicuramente un prodotto da tenere in considerazione se si vuole spendere poco e avere un utilizzo normale da ufficio in casa per tutti i giorni detto questo ci vediamo al prossimo video vi saluto mi raccomando iscrivetevi al canale condividete i nostri contenuti mettete like se i nostri contenuti vi piacciono o se vi sono piaciuti o se non vi sono piaciuti mettete un bel dislike perché ognuno è libero di dire la sua giustamente perché ricordatevi sempre che Revotec non si segue si sceglie detto questo ragazzi questo d'ora in poi è il nostro mantra è il nostro slogan perché chi ci ama ci segua chi non ci ama può fare ovviamente quello che ritiene più opportuno ci vediamo prestissimo un saluto da Pasqui e Revotec a tutti ciao